Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato a maggioranza la revisione straordinaria delle società partecipate e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dall'ente, così come previsto dagli articoli ex 24 ed ex 20 del Decreto Legislativo 175 del 2016. La scadenza dei termini per il deposito al Ministero dello Sviluppo Economico era stata fissata per il 31 gennaio. Nei fatti si tratta di un'azione prevista dalla norma che dà facoltà agli enti di poter dismettere o confermare le azioni in società partecipate o di razionalizzare la partecipazione. Ai voti la revisione straordinaria delle società partecipate è stata approvata a maggioranza con 12 favorevoli e 6 astenuti. L'atto è stato dotato dell'immediata esecutività con 12 favorevoli e 6 astenuti. Ai voti la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute è stata approvata a maggioranza con 12 favorevoli e 6 astenuti. L'atto è stato dotato dell'immediata esecutività con 12 favorevoli e 6 astenuti.